toan lo conoscevano entro un raggio di quaranta chilometri compare toan toan il grosso toan acquavite aveva reso celebre quel minuscolo villaggio sprofondato in un anfratto della valletta che scendeva al mare misero gruppo di dieci casupole normanne cinte di fossi e di piante quelle casupole erano come rannecchiate nel fondo della forra coperta d'erbe e di giunchi proprio dietro la curva che aveva dato il nome al villaggio turno va pareva che ci fossero rifugiate in quella buca come gli uccelli che si nascondono nei solchi nelle giornate di burrasca cerca il riparo contro l'impetuoso vento marino quel vento duro e salso che viene dall'alto mare che consuma e scotta come la fiamma prosciuga e distrugge come il gelo invernale tutto quanto il villaggio pareva di proprietà di antoine machblé detto pons oppure altrettanto spesso toan e toan acquavite per via che diceva sempre l'acquavite che vendo io è la meglio di francia ed erano vent'anni che dissetava il paese con la sua acquavite e i suoi ponzi perché tutte le volte che la gente gli chiedeva che cosa si beve compa lui rispondeva cosa vuoi bere genero mio un ponza un bel poncino che ti scalda la panza e che ti schiarisce le idee non c'è altro per la salute aveva l'abitudine di chiamare tutti zenero mio benché mai avesse avuto figlie sposate o da maritare e lo conoscevano bene toan pons l'uomo più grosso del cantone perfino del circondario la sua casetta pareva ridicolmente stretta e bassa perché lui potesse starci e quando la gente lo vedeva ritto sull'uscio dove passava giornate intere si chiedeva come avrebbe fatto ad entrarci e lui entrava tutte le volte che c'era un cliente perché toan acquavite era invitato di diritto a bersi il suo bicchierino in qualunque ordinazione l'osteria si chiamava al ritrovo degli amici e difatti compare toan era amico di tutta la regione venivano perfino da fechamp o da monvillier a trovarlo e a divertirsi sentendolo chiacchierare perché quello maccione avrebbe fatto ridere una mummia aveva un certo modo di pigliare in giro senza offendere di far l'occhiolino per far capire quel che non diceva a parole di battersi le cosce negli scoppi d'allegria che ogni volta faceva crepar dal ridere anche non volendo era già uno spasso anche soltanto a vederlo bere beveva finché gliene offrivano qualsiasi cosa con gli occhi maliziosi che gli brillavano d'una duplice contentezza provocata dal piacere di traccannare e di raggranellar soldi e poi dalla baldoria i buontemponi gli chiedevano perché non provi a bere il mare compà? lui rispondeva ci sono due ostacoli contrari primis che è salato e secundis che mi toccherebbe metterlo in bottiglia per via che la trippa non mi si piega per farmi bere a quel bicchiere bisognava sentirlo quando litigava con sua moglie era una tale commedia che si sarebbe volentieri pagato il biglietto da trent'anni erano sposati e non passava giorno che non s'accapigliassero soltanto che Tuanzi si divertiva e invece la moglie si arrabbiava lei era una normanna lunga lunga che camminava a passi da trampoliere e aveva una testa da barbagianni arrabbiato passava le giornate ad allevar polli nel cortiletto dietro l'osteria ed era rinomata per come sapeva ingrassarli quando la gente altolocata di Fechamp dava un pranzo di riguardo e ci teneva che riuscisse bene era necessario che offrissero un pensionante della moglie di Toine ma Costai era nata di malumore ed era sempre scontenta di tutto era arrabbiata contro il mondo intero e ce l'aveva in particolare contro il marito per la sua allegria, la sua rinomanza, la sua salute, la sua grassezza lo trattava da fannullone perché guadagnava senza far niente diceva che aveva una gola d'acquaio perché mangiava e beveva come dieci persone normali non c'era giorno che lei non dicesse infuriata ma non starebbe meglio nel porcile un trogolone come questo? tutto questo grasso fa finire il vomito e poi urlava ma aspetta, aspetta un po' che vedremo cosa capiterà, vedremo scoppierà come una vescica questo trippone Toine scoppiava in un'allegrarisata e rispondeva battendosi la pancia ehi comare gallina, tavola mia perché non provi a ingrassare i tuoi polli quanto me? prova se ci riesci rimboccandosi la manica sul braccio enorme guarda che ciccia comare, questa è un'ala i clienti picchiavano pugni sulla tavola torcendosi dalle risa battevano i piedi per terra sputavano in un delirio d'allegria la vecchia fuoribonda continuava aspetta, aspetta un po' vedrai cosa capiterà scoppierai come un budello troppo pieno e se ne andava fuori di sé tra le risate di tutti Toine di fatti faceva sballordire a vederlo da tanto che era diventato grasso e grosso rosso e sbuffante era una di quelle enormi creature con le quali la morte pare che si voglia divertire con furbizze e strizzatine d'occhio e perfidie pagliaccesche rendendo comico in modo irresistibile il suo lento lavorio di distruzione invece di rivelarsi come gli altri quella strega nei capelli bianchi nella magrezza nelle rughe in quella decadenza progressiva che fa esclamare con un brivido ma cicchia quanto è cambiato si divertiva questo qui a farlo diventare sempre più mostruoso e buffo a spennellarlo di rosso e di turchino a gonfiarlo facendolo apparire dotato ad una salute sovrumana e le deformazioni che infligge a tutti in lui diventavano oggetto di riso balorde divertenti invece di sinistre e pietose aspetta aspetta un po' e vedremo cosa capiterà ripeteva la moglie capitò che Toine ebbe un colpo e rimase paralizzato dovettero metterlo a letto quel colosso nella stanzina che stava dietro il tramezzo che la separava dall'osteria perché potesse sentire i discorsi e far quattro chiacchiere con gli amici difatti la testa gli era rimasta lucida e libera mentre il suo corpaccione enorme era immobile e non si poteva muoverlo né sollevarlo da principio si era sperato che le sue gambone avrebbero riacquistato un po' d'energia ma quella speranza svanì presto e Toine acquavite passò le giornate e le nottate in quel letto che veniva rifatto una volta alla settimana con l'aiuto di quattro amici che venivano a tirar su l'oste pigliandolo per le gambe e per la panza mentre veniva rivoltato il paglierizzo era rimasto allegro ma il suo buon umore era differente più timido più umile con certi timori da bambinetto davanti alla moglie la quale non faceva che urlare tutto il giorno eccolo qui la gola d'acciaio eccolo qui il fannullone il buonanulla il trogolone bella roba bella roba lui non rispondeva più si limitava a far l'occhiolino dietro le spalle della vecchia e a rivoltarsi unico movimento che gli fosse consentito questo esercizio lo chiamava fronte a nord oppure fronte a sud la sua più gran distrazione consisteva nell'ascoltare i discorsi che venivano fatti nell'osteria e a parlare attraverso la parete quando riconosceva la voce di qualche amico ehi genero mio celestine sei te e celestine maloasello rispondeva sono io compare tuan hai ricominciato a galoppare coniglione tuan acquavite rispondeva a galoppare ancora no ma non sono dimagrito e la carcassa è sempre buona cominciò a far venire i più intimi nella cameretta per fargli compagnia benché soffrisse di vederli bere senza di lui non faceva che ripetere è questo che mi dispiace di più genero mio di non poter bere più la mia acquavite porca miseria di tutto il resto me ne buggero ma questa di non poter bere non mi va giù s'affacciava alla finestra la testa di barbagianni della moglie che urlava guardatelo guardatelo questo fannullone che bisogna dargli da mangiare lavarlo e pulirlo come i maiali e sparita la vecchia a volte balzava sul davanzale un galletto con le penne rosse che guardava in giro col suo occhio tondo e curioso e poi mandava il suo sonoro chi-chi-ri-chi qualche volta anche un paio di galline arrivavano fino al letto cercando brisole per terra dopo un po' gli amici di Tuan Acquavite disertarono la sala dell'osteria per andare a far quattro chiacchiere intorno al letto dell'omaccione tutti i dopopranzi anche dal letto quel buon tempone di Tuan li faceva ancora divertire avrebbe fatto ridere il diavolo quel birbante erano in tre che venivano tutti i giorni Celeste Maloiselle uno spilungone un po' torto come il tronco d'un melo Prosper Hossleville un secchetto con un naso da scoiattolo maligno e furbo come la volpe e Cesar Comel che non apriva mai bocca ma si divertiva lo stesso pigliavano una sedia dal cortile l'appoggiavano sul fianco del letto e giù grandi partite a domino dalle due alle sei ma la moglie diventò insopportabile non poteva sopportare che quel grosso fannullone seguitasse a distrarsi e a giocare a domino a letto sicché quando vedeva che avevano cominciato la partita correva come una furia rovesciava la tavola mandando tutto all'aria e pigliava i pezzi per metterli di là urlando che era anche troppo mantenere quel ciccione a ufo senza doverlo vedere divertirsi come se pigliasse in giro la povera gente che sgobbava dalla mattina alla sera Celestine Maloiselle e César Pommel chinavano il capo ma Prosper Orslaville aizzava la vecchia e si divertiva alle sue arrabbiature un giorno vedendola più furiosa del solito le disse sentite un po' comare sapete come farei io se fossi in voi lei aspettò che si spiegasse piantandogli in faccia i suoi occhi da civetta è caldo come un forno il vostro marito perché non esce mai dal letto io gli farei covare le uova la vecchia rimase a bocca aperta pensò che la pigliassero in giro e fissò il visetto furbo del contadino che seguitò gliene metterei cinque sotto un braccio cinque sotto quell'altro e nello stesso giorno metterei una chioccia alla cova così nascerebbero insieme e appena i gusci fossero aperti porterai i pulcini di vostro marito alla chioccia perché li tiri su potreste avere più polli comare mia la vecchia ancora stupita chiese si può fare se si può fare ribatte l'uomo e perché non si potrebbe fare se si possono mettere a cova le uova dentro una cassetta tanto più si possono mettere in un letto caldo questo ragionamento la colpì e se ne andò calmata sopra pensiero dopo otto giorni entrò nella camera di tuan col grembiule pieno di uova e disse ho messo la chioccia gialla con dieci uova ed eccono dieci per te vada di non romperle tuan sbalordito chiese cosa vuoi voglio che tu le covi buona nulla rispogerei da principio tuan fece una risata poi siccome la donna insisteva si arrabbiò resistette e rifiutò nel modo più energico di farci mettere sotto le brazza quel seme di polli che si sarebbe dovuto schiudere al calore del suo corpo allora la vecchia furiosa esclamò non avrai nulla da mangiare finché non ti metterai a covare vedremo chi l'avrà vinta tuan preoccupato non rispose appena sentì suonare mezzogiorno chiamò ehi moglie è cotta la minestra la vecchia gridò dalla cucina per te minestra non ce n'è fa nullone tuan credette che scherzasse e si mise ad aspettare poi la pregò la supplicò bestemmiò fece parecchi fronti a nord e fronti a sud di disperazione diede gran pugni sul muro ma alla fine dovette rassegnarsi a farsi mettere cinque uova contro il fianco sinistro ed ebbe la minestra quando arrivarono agli amici credettero che stesse male tanto pareva strano e impacciato fecero la solita partita ma pareva che tuan non ci si divertisse e muoveva la mano con gran lentezza tra infinite precauzioni ma cos'hai il braccio legato chiese ors laville tuan rispose mi sento come un peso sulla spalla in quel momento si sentì entrer gente nell'osteria e i giocatori tacquero era il sindaco con l'aggiunto ordinarono due bicchierini d'acqua vite e si missero a discorrere degli affari del paese parlavano sottovoce e allora tuan ponce volle mettere l'orecchio sul tramezzo ma si dimenticò le uova fece un rapido fronte a nord e si ritrovò sopra una frittata mandò una tale bestemmia che la moglie corse capì il disastro con un gesto brusco lo scoperse nel vedere quell'impiastro giallo appiccicato contro il fianco del marito rimase da principio senza parola troppo indignata per poter dire qualcosa poi fremendo di rabbia si buttò sul paralitico e cominciò a picchiargli gran botte sulla pancia come faceva con la biancheria quando andava allo stagno a lavare una manata dopo l'altra facevano un rumore sordo svelte come le zampe di un coniglio che batta il tamburo i tre amici di tuan si torcevano dalle risate tossivano starnutivano urlavano mentre l'omaccione atterrito cercava di parare gli attacchi di sua moglie con prudenza per non rompere le cinque uova che aveva dall'altra parte tuan fu vinto dovette covare rinunciare alle partite a domino e a qualsiasi movimento perché la vecchia feroce lo faceva star senza mangiare ogni volta che rompeva un uovo se ne stava sdraiato a guardare il soffitto immobile con le brazze aperte come ali a scaldare addosso a sei germi dei polli rinchiusi nei gusci bianchi parlava sempre sottovoce come se temesse il rumore al pari del movimento e si preoccupava della chioccia gialla che nel pollaio faceva il suo stesso lavoro chiedeva alla moglie ha mangiato la gallina stanotte la vecchia andava dalla chioccia al marito dal marito alla chioccia tutta agitata ossessa addirittura dal pensiero dei pulcini che maturavano nel letto e nel pollaio i paesani che conoscevano la storia passavano seri e curiosi a chiedere notizie di tuan entravano in punta di piedi come si fa dai malati e chiedevano interessati allora come va tuan rispondeva va abbastanza bene ma mi sento tutto indolenzito da tanto che ho caldo mi pare che mi camminino le formicole sulla pelle una mattina la moglie entrò tutta agitata e disse la gialla ce ne ha sette tre erano cattive tuan ebbe un tuffo al cuore e lui quanti ne avrebbe avuti chiese ci manca tanto con la stessa angoscia della donna che sta per partorire la vecchia rispose inferocita e tormentata dalla paura di far fiasco così pare aspettarono gli amici avvertiti che era venuto il tempo arrivarono anche loro impensieriti se ne parlava in tutte le case e si chiedevano informazioni d'uscio e nuscio verso le tre tuan s'appisolò ora passava metà delle giornate a dormire lo svegliò uno strano solletico sotto il braccio destro si frugò con la mano sinistra e prese una bestiolina coperta di ovatta gialla che gli si muoveva tra le dita ebbe una tale impressione che si mise a urlare e lasciò andare il pulcino che gli saltò sul petto l'osteria era piena di gente corsero tutti nella cameretta e la riempirono facendo cerchio intorno al letto come attorno a un saltimbanco la vecchia subito arrivata prese con precauzione il pulcino che si era rannicchiato sotto la barba di tuan nessuno fiatava era una calda giornata d'aprile dalla finestra aperta si sentiva la gallina chiocciare per chiamare i pulcini appena nati tuan grondante sudore per l'agitazione il timore la commozione mormorò ce ne deve essere un altro sotto il brazzo sinistro la moglie infilò nel letto la sua manona secca e tirò fuori con la stessa cura di una levatrice un altro pulcino i vicini lo vollero vedere se lo passarono osservandolo con attenzione come se fosse stato un fenomeno per altri venti minuti non ne vennero poi ne uscirono dal guscio quattro tutti insieme ci fu un gran brusio tra i presenti tuan sorrise felice del successo e si cominciava a inorgogliere della sua strana paternità dopo tutto di gente come lui non se ne vedeva tanto spesso era davvero un uomo straordinario siamo a sei disse per tutti i diavoli che battesimo scoppiarono tutti a ridere altra gente riempiva l'osteria e altri ancora stavano aspettando davanti all'uscio si sentiva domandare quanti sono finora sei la vecchia portò alla chioccia la nuova famiglia e la bestia chiocciava senza posa rizzava le penne e apriva le ali per riparare il branco dei suoi figli sempre più numeroso eccolo un altro gritò tuan invece sarà sbagliato ce n'erano tre fu un trionfo l'ultimo ruppe il guscio alle sette di sera tutte le uova erano buone tuan ebbero di gioia sollevato e trionfante baciò la peluria del pulcino e quasi lo soffocò con le labbra voleva tenerselo nel letto fino alla mattina dopo in uno slancio di affetto materno per quella bestiola che aveva portato alla luce ma la vecchia senza badare alle sue suppliche lo portò via come gli altri la gente la gente soddisfatta se ne andò via commentando l'accaduto hors la ville rimasto per ultimo chiese di un po' tuan il primo che metti in padella mi inviti al pensiero dell'africa sea il viso di tuan si illuminò sicuro che ti invito sicuro genero mio rispose di un po' grazie